se partite ti svuotano proprio dentro ti svuotano l'animo certo bisogna soffrire veramente come cani io non so se altri tifosi di altre squadre provano lo stesso ma madonna mia a soffrire così non ci arrivo alla fine fatemi mettere ragazzo finita la partita 1-1 non so se essere felice per il punto perché eravamo messi veramente con le pezze al culo o se essere un po' con quel rodimento di perché potevi portartela a casa perché hai sprecato e mi linko poi c'è un certo punto fa uno stop incredibile tira un bocca a Mignolet vabbè stava a cadere Pereira non tira pareva un Correa pareva che non tira manco se lo paghi chesito che se fa male entra a Murici Murici che fa il suo non azzecchiamo una da palla inattiva una capoccia il rigore Patrick è un deficiente era tornato normale Patrick dagli anni d'oro in cui era una pippa oggi ha fatto una delle sue cazzate che cazzo vai a cintolarlo a abbracciarlo che non c'era motivo rigore per loro oggi veramente se c'era una squadra uscì vincente eravamo noi perché nonostante eravamo decimati non scivamo nessuno abbiamo giocato all'attacco abbiamo sofferto un po' perché oggi dovevi giocarla un po' così un po' chiusi dietro ma non così chiusi cioè abbiamo giocato soltanto in difesa a un certo punto stavamo 4 4-3-3 poi è diventato un 4-4-2 sei po' 4-8 sì cioè hai giocato un po' troppo difensiva cioè ti sei un po' troppo caccato sotto ho capito che stavi decimato ma alla fine da potevi giocare è entrato Pereira buona partita pure di Pereira ha fatto qualche erroretto l'hanno ha tirato però vabbè Murici pure è entrato bene ha fatto quello che doveva fare Correa ha segnato ok però per il resto sempre le solite cappellate che non la passa e non la fa casito ha giocato un po' malino Hutt assassino oggi è proprio acceso in modalità assassino Reina meno male Reina guarda madonna Pepe Reina quanto cazzo è forte ok che non ha parato il rigore ma vabbè quello manco Stragoscia però ma ha fatto certi interventi ovviamente che Stragoscia se li sogna sempre cioè voglio bene a Stragoscia è forte quanto ti pare ma obiettivamente Reina c'ha delle uscite c'ha una cattiveria un'attenzione in più a Stragoscia Stragoscia lo vedi un po' magari anche dallo sguardo lo vedi un po' perso ha cicca la gomma Reina invece sempre con la bava alla bocca attento lì che esce che fa pronto ah rega si Merode Merode un po' Merode ripeto non so che pensasse essere felice perché abbiamo portato un punto con questa situazione bruttissima oppure se Merode cioè a primo impatto Merode perché a me parecci rotono mi fanno schifo i parecci cioè vederne parecci ha cioè sempre il mio di perde ma c'è l'emozione alla fine sono quelle perché la delusione c'è in entrambe quando perdi c'è pure l'incazzatura forse sono un po' meno incazzato un po' più deluso però boh non so veramente fatto sta che anche oggi Fares ha giocato soltanto in difesa cioè Fares in difesa copre bene poi arriva in attacco e non sa fare un cross Marus ha fatto il suo Akpah ha fatto il suo Milink fenomeno oggi ha giocato veramente bene oddio vabbè lo raccolgo dopo ha fatto il suo e o di Milink oltre all'aggancio quello per poi il tiro in bocca a Mignolet comunque ha fatto ottime giocate si è portato a casa un botto di calci di punizione e niente raga è andata così è andata così siamo ancora in testa insieme al Bruce in testa perché il Borussia ha vinto quindi c'ha tre punti il Zenit sta a zero cioè se hai mai visto che la testa una di la prima fascia c'è zero butto vabbè quindi per ora va bene così anche a livello di classifica va bene così a livello di divertimento di emozione un po' meno perché insomma una partita un po' con la tachicardia a 3000 ogni volta stringevi il culo ogni volta che qui le attaccavano e poi cioè quell'ansia non è sfociata in gioia ma è rimasta ansia è rimasta delusione allora è solo niente inutile piangersi addosso è andata così anzi ripeto non so se essere felice o triste però da una parte bisogna essere felice perché stavamo messi malissimo è entrato il primavera abbiamo scoperto che si chiama Zayze non ci si sa ci si ci sus certo ha giocato stava là anche a un certo punto potevamo fare una ripartenza bastava che la passava a parola che gli stava là l'ha tirata in culo lontanissima vabbè ci sta prima partita emozione comunque ripeto non è che abbia fatto tutto sta però ripeto ci sta perché prima partita in Champions prima partita in prima squadra in Champions vabbè allora regà bella e mo testa a Torino ci si prova pure lì a portare a casa almeno punti e poi la prossima con lo Zenit regà con lo Zenit bisogna spezzargli le gambe veramente perché lo Zenit ha fatto 0 punti non ho mai vissuto una partita dallo Zenit quindi non so come gioca ma se ha fatto 0 punti col Brucci ha fatto 0 punti col Dortmund ah regà dai lo Zenit va battuto veramente anche in queste condizioni va battuto lo Zenit anche perché se no inizia a scende e non va bene ragazzi noi ci vediamo sabato per il pre-partita di Torino-Lazio sperando che non sia sbadone ma soltanto gioie e ragazzuoli mi invito le ricordo non l'ho detto prima lasciate un like se siete tratti a tirare la campanella così termine la giornata ogni qualvolta che pubblico un video se vi va condividete il video e noi ci vediamo sabato per il partita di Torino-Lazio sperando che non sia sbadone ma soltanto gioie ragazzuoli sempre forza Lazio e oggi non ho il braccio dietro non lo posso vedere fa vedere oggi Ciro era con noi non ha portato troppa fortuna però Ciro dai Ciro torna che ci manca e ci servi sempre forza razzi ragazzuoli ciao ragazzuoli a sabato